Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, misteriose e oscure, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e prendere uno snack, perché ora iniziamo ad indagare sul file di oggi. Preparatevi perché la storia che voglio raccontarvi oggi è davvero particolare. Non è macabra o cruenta come molte altre che vi ho raccontato, ma allo stesso modo riuscirà a scioccarvi e soprattutto vi farà provare tanta tristezza, almeno credo. Si tratta di una di quelle storie in cui se vi immedesimate nei protagonisti potreste incazzarvi tantissimo e addirittura sentirvi male. Non sto scherzando, a me tutta questa vicenda ha toccato particolarmente, quindi spero di trasmettervi le stesse emozioni. Sono sicuro in ogni caso che farete fatica a dimenticarvela. Comunque velocemente vi ricordo di seguirmi anche su Instagram per non perdervi le novità, il file dietro le quinte e tutti gli annunci importanti di cui probabilmente non ve ne frega un cazzo. Ma adesso non perdo altro tempo in chiacchiere. Iniziamo subito con la storia di oggi. È il 1986 e un uomo di nome Thomas Hawkes ha 39 anni e due figli adolescenti. Ha avuto questi ragazzi da un matrimonio finito in divorzio ed è quindi finito per doversene occupare tutto da solo. Non che gli dispiacesse, anzi amava fare il genitore e prendersi cura dei suoi figli. Corrono i bellissimi anni 80 appunto e i ragazzi vivono tutti insieme a Newport Beach in California. Si tratta di una piccola cittadina sul mare che all'epoca aveva circa 60.000 abitanti. Sembra non essere niente di speciale descritta così ma in realtà questa è una meta conosciutissima negli Stati Uniti e non solo. Le persone sognano di andare lì in vacanza perché è la classica meta perfetta per staccare la spina. Ci sono spiagge fantastiche, la gente si rilassa e fa surf oppure passa le giornate in barca. Insomma è questo tipo di piccola città che in tanti amano davvero. Un giorno, sempre nell'86, Thomas, che chiameremo Tom d'ora in avanti, si trova ad una gara del Cili nella sua città. Le gare del Cili sono una sorta di competizione molto famosa in America in cui le persone si sfidano appunto per vedere chi fa il Cili migliore, il Cili più buono. Come quando in euforia Maddie sbrocca e insulta la famiglia di Nate buttando a terra i loro Cili vincente. Ecco, le gare del Cili sono come quelle che vedete in quella serie. Comunque, Tom appunto si trova a questa gara e tra la marea di persone che sono presenti all'evento scorge una bellissima ragazza che non aveva mai visto prima. Era talmente bella da lasciarlo a bocca aperta e senza rendersene conto si ritrova a fissarla incessantemente, quasi in modo inquietante. Lei quindi ad un certo punto se ne accorge, lo guarda, c'è un sorriso e distoglie lo sguardo. Una scena da film proprio. Lui quindi si imbarazza tantissimo perché insomma è imbarazzante, però decide di non farsi troppe paranoie e andare a presentarsi. Già, perché prima dei social la gente si presentava così di persona. Impensabile adesso. Comunque Tom si arma di tutta la sua autostima e va verso di lei. E ovviamente non ha nulla da temere. È un bell'uomo, grande, grosso e muscoloso e sembrava aver capito dallo sguardo di lei che fosse interessata a conoscerlo. Quindi arriva finalmente lì, si presenta e i due iniziano una piacevole conversazione. Lei è Jackie, ha 29 anni, è single e continua a parlargli con il sorriso stampato in volto. Se non l'aveste capito tra i due è subito amore. Iniziano ad uscire e frequentarsi spesso e si innamorano follemente dopo pochissimo tempo. Pochi anni dopo, nell'89, Tom e Jackie si sposano e alla cerimonia partecipano in 150 tra amici e parenti. Insieme formano una coppia bellissima e praticamente tutti vogliono conoscerli e passare del tempo con loro. In quel momento erano davvero amati e rispettati e avevano davvero un sacco di amici. Dopo il matrimonio, Jackie va a vivere finalmente a casa di Tom dove dovrà convivere anche con i suoi figli adolescenti. Ma pensate che nonostante la madre biologica dei due ragazzi fosse ancora viva, loro comunque iniziano a chiamare Jackie mamma. Già, perché lei è premurosa, si prende cura di loro e li ama come se fossero i suoi figli. Jackie infatti a soli 22 anni aveva avuto un brutto incidente in moto che le causò dei gravi danni interni. A causa di questo aveva perso la capacità di concepire, quindi non avrebbe mai potuto avere dei figli biologici. Ma lei da sempre aveva il sogno di essere madre e di prendersi cura dei suoi figli, quindi semplicemente accolse i figli di Tom come se fossero suoi. Per lei quella era un'opportunità perfetta ed era davvero felice di come stava andando la sua vita. Pian piano però gli anni passano e nel 2002 i ragazzi sono ormai adulti e decidono quindi di andare via di casa. Questo è un duro colpo sia per Jackie che per Tom perché entrambi in realtà amavano occuparsi di loro e passare del tempo in famiglia. Ovviamente però sapevano che questo giorno sarebbe arrivato, così avevano programmato un piano per andare in pensione nel momento in cui i ragazzi avrebbero lasciato casa. Si erano preparati per anni per questo momento e sognavano di andare in pensione in uno yacht. Il piano era quello di lasciare tutto e andare a vivere sul mare, coccolati dalle onde e circondati da serenità e tramonti bellissimi. Quindi negli anni fecero di tutto perché quel sogno si avverasse. I due non erano per niente benestanti però, ma in compenso erano molto bravi a risparmiare e mettere da parte i soldi. Tom era un agente di custodia per cui prendeva uno stipendio nella norma, ma anno dopo anno misero da parte ogni singolo centesimo che potevano. Nel 2002 quindi, quando i figli andarono via di casa, Tom e Jackie decidono di dar vita al loro sogno. Vendono la casa a Newport Beach e con tutti i loro risparmi acquistano il loro yacht. Lo pagano circa 300.000 dollari, ma lo scelgono principalmente per il suo nome, Well Deserved, ovvero ben meritato. E infatti quello yacht se l'erano davvero meritato. Era un nome perfetto e se ne sono innamorati subito. Ovviamente non si tratta di una lussuosa imbarcazione come quelle che vengono in mente quando si parla di yacht, ma questo è ciò che potevano permettersi e a loro andava benissimo così. La barca non era in condizioni perfette, ma dopo qualche lavoro la trasformarono in un gioiellino. Portarono quindi tutte le loro cose nella barca e iniziarono a viverci davvero. Iniziarono a vivere il loro sogno. I due quindi passarono i prossimi due anni sul mare in questo favoloso yacht che tanto avevano desiderato e che si sono sicuramente meritati. Guardate queste riprese. Stavano davvero vivendo una vita da sogno. Jackie aveva appunto questa videocamera con la quale documentava i momenti più sereni e felici. E tramite queste immagini si può perfettamente percepire la loro gioia e serenità. Tra il divertimento e il relax però, due anni passano velocissimi. E nel 2004 Tom e Jackie ricevono una notizia fantastica e inaspettata. Uno dei figli sta per avere un bambino. A questa notizia iniziano a sprizzare gioia da tutti i pori, soprattutto Jackie. Ricordate che amava fare la mamma e in generale prendersi cura dei bambini, per cui questo annuncio la fa sentire al settimo cielo. C'era solo un problema però. Stando sullo yacht non potevano stare vicini al figlio e al nipotino che sarebbe arrivato. Prendono così una decisione molto, molto importante. Decidono di mettere in vendita il well-deserved e acquistare una casa vicino al figlio. In questo modo sarebbero stati vicini e potevano vedere e occuparsi del nipotino quando più preferivano. La loro vita da sogno sul mare quindi stava per giungere al termine, ma erano comunque felicissimi di questo nuovo capitolo. Non vedevano l'ora di fare di nuovo i genitori, se così si può dire. A novembre di quell'anno quindi pubblicano un annuncio in una rivista di pesca. Il well-deserved è ora ufficialmente in vendita per la cifra di 500.000 dollari. E a loro sorpresa l'annuncio attira l'attenzione da subito. Una giovane coppia che aveva messo un po' di soldi da parte era molto interessata all'acquisto. Tom e Jackie quasi non ci credono e telefonano subito il figlio per dirgli che avevano trovato gli acquirenti e che presto sarebbero andati a vivere vicino a lui. È una situazione di euforia e gioia immensa per loro. I figli e in generale tutta la famiglia a quel punto si aspettavano di ricevere una telefonata dagli Hawks nel giro di pochi giorni. Cioè, era ovvio che si sarebbero fatti sentire nel giro di poco tempo. Ma quella chiamata non arrivò mai. Tutti nella famiglia iniziano a preoccuparsi. Non è da loro non farsi sentire per giorni, specialmente quando è in corso un'occasione così importante. Doveva essere accaduto qualcosa perché se avessero potuto avrebbero chiamato sicuramente. Quindi ora sono i figli che provano a contattarli in tutti i modi. Ma pare che i due coniugi siano ormai irraggiungibili. Questo è un campanello d'allarme gigantesco per tutti loro. Doveva per forza esserci una spiegazione. Quindi il fratello di Tom, un uomo di nome Jim, si precipita al porto in cui è ormeggiato il loro yacht. Pensa che magari non avevano ancora venduto la barca e quindi si trovavano ancora lì. Insomma, niente di preoccupante. Ma vuole comunque vedere con i suoi occhi se c'è qualcosa che non va. Arriva sul luogo insieme ad un suo amico e iniziano a dare un'occhiata in giro. Guardano e osservano attentamente dall'esterno della barca e subito si rendono conto che qualcosa di strano effettivamente c'è. Prima di tutto pare non esserci nessuno a bordo. Sembra che la barca sia vuota e se i coniugi non l'avessero venduta sarebbero per forza stati lì dentro. Inoltre notano alcune corde slegate buttate sul ponte dell'imbarcazione lasciate lì in disordine. E in generale sembrava essere un po' tutta in disordine con vari elementi fuori posto. E questa ragazzi è una cosa che Tom e Jackie non avrebbero mai fatto. Erano precisi e meticolosi quando si parlava di lasciare la barca in ordine. Quando loro erano lì non c'era mai una sola cosa fuori posto. Era impossibile che fossero stati loro a lasciarla così. E Jim lo sapeva bene. Pensa quindi semplicemente che la coppia avesse finalizzato la compravendita e che fossero i nuovi proprietari ad aver lasciato quel disordine. Quindi Jim decide di lasciare sulla barca un suo biglietto da visita. Sopra ci scrive che vuole parlare con gli acquirenti dello yacht perché suo fratello e sua moglie l'avevano venduto ma da quel momento erano come spariti. Una volta lasciato il biglietto Jim e il suo amico salgono in macchina e fanno per tornare verso casa. Poco dopo però il telefono di Jim squilla. Lui risponde ed è una ragazza di 21 anni di nome Jennifer De Leon. Gli dice che ha letto il biglietto e dice che sì, lei e suo marito hanno comprato lo yacht. Ma proprio come lui non riuscivano a mettersi in contatto con Tom e Jackie. Spiega che sulla barca hanno trovato dei comandi che non conoscevano e quindi volevano contattarli per farsi spiegare un po' come usarli. Inoltre dice anche che Tom e Jackie avevano lasciato degli oggetti personali a bordo quindi volevano ridarglieli ma non riuscivano a contattarli in nessun modo. Sembravano spariti nel nulla anche per loro. Jim a questo punto le chiede qual è stata l'ultima volta che hanno visto Tom e Jackie e lei gli dice che l'ultima volta era stata proprio al momento della compravendita. Avevano preso i soldi, firmato i documenti e poi se ne erano andati sul loro SUV. Jim quindi le chiede se avesse idea di dove fossero diretti e lei gli dice che praticamente non avevano avuto conversazioni personali. Avevano parlato più che altro dell'acquisto ma Jennifer pare aver capito che Tom non vedeva l'ora di comprare una casa in Messico vicino al confine con l'Arizona. Questo perché suo figlio aspettava un bambino e viveva proprio in Arizona. A questo punto Jim la ringrazia e le dice di fargli sapere se avranno notizie di loro. Lei dice certo ma fammi sapere anche tu se hai notizie di loro. Quindi si salutano e la telefonata lascia Jim parecchio dubbioso. Tom e Jackie non potevano essere scappati con i soldi dalla barca senza dire niente a nessuno. Erano davvero genuinamente felici per la nascita imminente del nipotino e davvero volevano seguire il piano di comprare casa vicino al figlio per aiutarlo a prendersi cura di lui. Tutto questo quindi non aveva assolutamente nessun senso. Jim però si ricorda di Patricia. Questa donna si occupava delle finanze dei due perché in mare ovviamente non avevano il wifi e per loro era difficile pagare bollette e gestire le finanze in generale. Quindi assunsero Patricia per fare queste cose diciamo burocratiche. Jim quindi chiama anche lei e le chiede se avesse informazioni su di loro. Lei dice che ultimamente non li ha sentiti. Quindi Jim le spiega la situazione e le chiede se per caso Tom e Jackie avessero depositato una grande somma di denaro sui loro conti in banca. Ma Patricia controlla e dice di no. I 500.000 dollari dello yacht non erano stati depositati ed era davvero strano. Iniziano quindi insieme a cercare di dare una spiegazione logica a capire cosa sta succedendo ma non arrivano a nessuna conclusione. Quindi i due si salutano e a quel punto Jim ha davvero un brutto presentimento. Sente come se fosse accaduto qualcosa di orribile e i segnali in effetti c'erano tutti. Decide quindi di denunciare immediatamente la scomparsa di Tom e Jackie. La polizia di Newport Beach prende subito seriamente il caso e comincia immediatamente a fare le prime indagini. Tutti i dettagli della vicenda sono misteriosi e strani. Nessuno sta capendo nulla. Davvero i coniugi hoax non avrebbero avuto nessun motivo di sparire o scappare. La prima cosa che fa la polizia quindi è indagare sugli acquirenti e molto presto scopre che il marito di Jennifer, un certo Skyler De Leon, era un ex detenuto. L'uomo aveva passato del tempo in prigione per una rapina a mano armata. Quindi chiaramente la polizia inizia ad avere dei forti sospetti su di lui ma anche su sua moglie perché in effetti erano stati gli ultimi a vederli in vita. Decidono quindi di mandare un investigatore al porto per dare un'occhiata allo yacht per vedere se fosse tutto a posto o se ci fosse qualcosa di strano e sospetto. Era solo un accertamento. Ma quando l'investigatore arriva nota che sullo yacht sembra di nuovo non esserci nessuno e guardando attentamente nota un dettaglio agghiacciante. In una delle superfici dell'imbarcazione sembra esserci l'impronta di una mano insanguinata. Da lì nel molo però non si vedeva perfettamente quindi sarebbe servita un'analisi più attenta. Questo sconcertante dettaglio fa sì che la polizia ottenga un mandato di perquisizione immediata e più tardi quel giorno decine di agenti di polizia sono sul luogo per ispezionare lo yacht da cima a fondo. Presto però si rendono conto che quell'impronta non era altro che della ruggine e sulla barca non trovano niente di strano o sospetto. A quel punto quindi gli agenti sono frustrati perché effettivamente non hanno alcuna pista da seguire. Decidono quindi di chiamare Skyler De Leon e sottoporlo a un interrogatorio. Lui si presenta alla stazione di polizia e gli chiedono subito di raccontare esattamente in ogni minimo dettaglio quello che era accaduto l'ultima volta che ha visto Tom e Jackie. Skyler si dimostra molto collaborativo e inizia a raccontare tutto quanto come richiesto. Dice che una volta ha visto l'annuncio dello yacht nella rivista di pesca ha contattato subito i venditori. Poco dopo si sono visti per vedere la barca e fare un test sul mare. Dopo il test ha capito che gli piaceva davvero tanto e ha quindi deciso di acquistarla. Quindi il 15 novembre del 2004 ha visto nuovamente Tom e Jackie per finalizzare l'acquisto. Skyler dice alla polizia di essere andato lì insieme a sua moglie Jennifer e la loro figlia di un anno. Insieme a loro c'era anche un notaio e un amico di Skyler che avrebbe fatto da testimone. Sono quindi arrivati nel parcheggio vicino al molo e hanno incontrato Tom e Jackie. Dopo una breve contrattazione i De Leon hanno consegnato loro una valigia piena di soldi in contanti. Quindi i due hanno preso la valigia, firmato i documenti e poi sono andati via con il loro SUV. Diretti probabilmente in Messico. Quando la polizia gli chiede come avesse fatto a permettersi uno yacht così costoso, Skyler rivela che da piccolo era un attore famoso. O meglio era una sorta di extra nella famosa serie dei Power Ranger. E sono sicuro che qualcuno di voi si ricorderà di lui, ma di sicuro tutti conosciamo la serie. Comunque inizia a raccontare di come avesse fatto un bel po' di soldi da quello e poi li avesse investiti. Ma mentre racconta ad un certo punto si ferma da solo e dice una cosa del tipo No, non è vero, non è così che ha avuto i soldi. Rivela quindi di averli rubati. Ricordate che era stato arrestato per rapina a mano armata. Ecco aveva rubato i soldi ad un grande capo della droga del Sud California. Prima di essere arrestato però era riuscito a nascondere i soldi e una volta uscito di prigione è tornato a riprenderseli. Ed è per questo motivo che voleva comprare lo yacht. I soldi che aveva erano sporchi, con tanti che arrivavano dalla droga ed attività illegali. Quindi voleva trasformarli in qualcosa di pulito. Avrebbe quindi acquistato la barca per poi rivenderla e avere dei soldi puliti. Non più legati alle attività criminali insomma. Gli agenti a questo punto sono scioccati. Skyler si stava incriminando da solo e stava autodenunciando il suo crimine. Questa attività si chiama riciclaggio di denaro ed è ovviamente illegale. Perciò gli agenti rimangono increduli a sentire le sue parole. Ma comunque gli dicono ok, ti lasciamo andare per ora perché sei utile per le indagini. Quindi non ti arrestiamo. E così Skyler se ne torna tranquillamente a casa. Gli investigatori però interrogano anche sua moglie Jennifer, il notaio e l'amico di Skyler che aveva fatto da testimone durante la compravendita. Chiedono a tutti quale fosse l'ultima loro interazione con Tom e Jackie e tutti loro rispondono allo stesso modo. Sono arrivati, gli hanno dato la valigia con i soldi, l'hanno presa, hanno firmato i documenti e sono andati via sul SUV. L'unico dettaglio che differiva nei vari interrogatori era che il notaio diceva che Tom e Jackie erano normali e sembravano tranquilli mentre Skyler aveva detto che il loro comportamento era un po' strano. Erano ansiosi di avere tutto quel denaro in contanti, cioè avevano un po' paura e erano un po' timorosi. Dopo averli sentiti tutti comunque la polizia inizia a credere di essere arrivata ad un punto morto nelle indagini. Non avevano davvero nessuna pista da seguire e nessun indizio schiacciante che incriminasse i De Leon o chiunque altro. Decidono quindi di chiedere ai media di pubblicare la foto di Tom e Jackie e annunciare la loro scomparsa. Aggiungono anche una foto del veicolo e piazzano una bella ricompensa a chiunque li avesse trovati. E dopo pochi giorni dall'annuncio alla tv, una coppia di anziani in Messico chiama la polizia e dice che il SUV degli Hawks era parcheggiato proprio di fronte a casa loro. Quindi sia la polizia messicana che quella statunitense si precipita in quel luogo, si aspettano un po' tutti di trovare Tom e Jackie in quella casa o comunque qualcuno che li conoscesse, ma bussano e alla porta risponde un uomo sconosciuto mai visto prima. La polizia gli chiede di chi è il veicolo e lui risponde che è di un amico. Gli chiedono quindi se è di Tom o Jackie, ma lui risponde Chi? Non ho idea di chi siano. L'uomo non li aveva mai visti prima. Dice invece che quel SUV è del suo amico Skyler De Leon. A questo punto la polizia capisce che Skyler stava mentendo. Aveva detto che erano andati via con quell'auto l'ultima volta che li aveva visti, ma a quanto pare, dopo quella occasione, Skyler era riuscito in qualche modo a salire su quel SUV e portarlo dal suo amico in Messico. Quindi la polizia furba decide di usare la confessione di Skyler per riciclaggio di denaro per arrestarlo e tenerlo in custodia. Mentre si trova sotto custodia, gli agenti perquisiscono casa sua e, indovinate un po', trovano un sacco di oggetti personali di Tom e Jackie, cose come computer, videocamere e in generale oggetti che non avrebbero mai lasciato nello yacht, non se se ne fossero andati di loro volontà. Ma nonostante tutte le prove contro Skyler, che di fatto lo collegavano alla sparizione dei coniugi, l'uomo continua a dire che è innocente. Dice che si tratta solo di un grosso malinteso. Pensate che anche sua moglie Jennifer dice che lui non ha fatto nulla e che è un malinteso. Partecipa addirittura a dei talk show per parlare di come fosse tutto un falso. Davvero solo un grandissimo malinteso. La polizia intanto continua a interrogare e fare domande a Skyler, ma lui non dice assolutamente più nulla. Rimane fermo sulla sua posizione. E anche Jennifer continua ad insistere, dicendo anche lei che sia lei che suo marito erano assolutamente preoccupati e dispiaciuti per la scomparsa degli Oaks. Ma la polizia ovviamente non credeva a quelle parole. Era ovvio che Skyler stava nascondendo qualcosa. Insomma, tutti gli indizi puntavano a lui. C'era qualcosa di davvero strano e misterioso che circondava tutto questo caso. Ma gli agenti non pensavano che la realtà fosse tanto macabra quanto poi si rivelerà. Un po' disperati, decidono di nuovo di rienterrogare tutti quanti. La prima a tornare in centrale è il notaio, una donna di nome Kathleen Harris. Questa donna non aveva mai avuto problemi legali di nessun tipo e anzi la sua carriera di notaio andava a gonfie vele da tantissimi anni. Una persona per bene, insomma. Gli agenti quindi le chiedono ancora una volta di raccontare l'ultima sua interazione con Tom e Jackie. E lei ripete la stessa identica cosa. Arrivano, prendono i soldi, firmano i documenti e vanno via in macchina. Ma gli agenti non convinti continuano ad insistere ancora e ancora. Dopo un interrogatorio molto specifico e intenso, finalmente la donna cede e dice tutto quello che sapeva davvero. Dice che lei, in realtà, non aveva mai incontrato Tom e Jackie. Non aveva idea di che aspetto avessero né tantomeno di chi fossero. Racconta che era stata pagata da Skyler in contanti per retrodatare i documenti di compravendita che erano già stati firmati dagli hoax. E a questo punto inizia a venire fuori una verità davvero agghiacciante. La polizia la lascia andare e prosegue a rienterrogare l'amico di Skyler, quello che era lì come testimone per la compravendita. Questo amico si chiama Alonso Machain e quando viene interrogato continua comunque a ripetere la stessa versione. Arrivano, prendono i soldi, bla bla bla. Ma gli agenti gli dicono è no bello mio, sappiamo che il notaio ha mentito quindi stai mentendo anche tu. E lui quindi inizia a chiudersi e a non voler dire neanche una parola. Ma dato che la polizia aveva davvero bisogno di una svolta nelle indagini, gli dice una roba del tipo sai cosa? Se ci dici tutta la verità noi faremo in modo di ridurre drasticamente la tua pena. Quindi Alonso cede e inizia a raccontare la ghiacciante verità. Alonso all'epoca era giovane, un ragazzo sulla ventina, un po' influenzabile e suggestionabile. Lavorava in una prigione e faceva il carceriere. E proprio in questa prigione, pensate un po', conosce Skyler che era lì per scontare la sua pena per rapina a mano armata. I due diventarono amici proprio in quella prigione e quando Skyler venne scarcerato, i due continuarono a vedersi e uscire insieme molto spesso. Ad un certo punto però, nel novembre 2004, Skyler fa una confessione scioccante ad Alonso. Gli dice di essere un assassino sicario di fama internazionale, però lo rassicura dicendo che per lavoro deve uccidere solo le persone cattive e malvagie. Gli confessa che attualmente è sotto contratto e deve portare a termine l'uccisione di due persone davvero tanto, tanto malvagie. Tom e Jackie Hawks. Che poi vabbè, non so come abbia fatto Alonso a sentirsi rassicurato da queste parole, però comunque. Skyler continua dicendogli che se lo avesse aiutato a portare a termine questa missione omicida, gli avrebbe dato la bellezza di un milione di dollari. A quel punto Alonso dice, sai cosa? Ci sto. Ed ecco che finalmente inizia a raccontare alla polizia quello che è accaduto davvero quel fattidico giorno. Il 15 novembre, Skyler, Alonso e un terzo uomo assunto da Skyler per questa missione vanno al parcheggio vicino allo yacht well deserved. Il terzo è un uomo grande, grosso e muscoloso che incute non poco timore ed è addirittura un noto membro di una gang della California. Si chiama John Kennedy. Comunque loro tre insieme arrivano al parcheggio non per finalizzare la compravendita dello yacht, come avevano detto nella prima versione. Anzi, non ci erano neanche vicini a fare quello. Erano lì invece per vedere Tom e Jackie e provare lo yacht in mare. Immaginate quindi Tom e Jackie che arrivano e si trovano questi tre uomini decisamente sospetti ad aspettarli. Iniziano a sorgere davvero tanti dubbi nella testa di Tom anche perché essendo un agente di custodia era abituato a vedere i criminali sapeva benissimo riconoscerli. Ha quindi capito subito che erano persone sospette. Per questo inizia a temporeggiare dice cose del tipo dai rimandiamo facciamo un altro giorno oggi siamo impegnati eccetera eccetera ha tirato fuori tipo ogni scusa possibile. Davvero non voleva in nessun modo che quei tre salissero sullo yacht con loro. Ad un certo punto però Skyler per convincerli fa una mossa a dir poco furba. Si allontana un attimo e chiama sua moglie Jennifer che per caso si trovava proprio vicino a quel luogo. Quindi pochi minuti dopo arriva anche lei tenendo in braccio la loro figlia piccola e subito l'atmosfera cambia drasticamente. La tensione quasi si dissolve e specialmente Jackie che amava i bambini amava essere una figura materna si scioglie completamente. Va da Jennifer coccola il bambino lo tiene in braccio parla con lei e le sembra una donna molto dolce e premurosa e insomma si avvia questa dinamica decisamente molto meno tesa. Quindi Jackie a questo punto è tranquillissima e insieme a Tom decide di farli salire tutti quanti e fare questo benedetto test. Ma appena prima di salire Jennifer dice che deve tornare a casa non può stare con loro. La bambina è nervosa lei ha cosa da fare e semplicemente non può dilungarsi oltre. Tom torna un po' intimorito sentendo queste parole era chiaramente contrario al fatto che questi tre uomini salissero in barca con lui e sua moglie ma ormai era deciso dovevano fare il test in mare. Quindi salgono tutti nello yacht e con Tom alla guida partono verso l'orizzonte. Arrivano molto in fretta in un punto in cui tutto intorno non si vede più la terraferma ed è a quel punto che John e Skyler chiamano Tom. Gli dicono di andare con loro nel piano di sotto dove c'è la camera da letto perché dovevano fargli vedere una cosa. Lui prova a fidarsi e va a vedere e intanto Jackie e Alonso rimangono al piano di sopra. Mentre sono lì all'improvviso sentono un forte tonfo provenire da sotto. Lei non capisce ma Alonso sa benissimo cosa sta succedendo. Sono i suoi due complici che hanno buttato a terra Tom e lo hanno ammanettato. E qui ragazzi inizia la parte davvero brutta. Alonso seguendo le istruzioni piomba addosso a Jackie prima ancora che lei potesse rendersi conto di quello che sta accadendo. Poi dalla camera tornano John e Skyler prendono tutti insieme Jackie e portano anche lei in camera da letto. Lì vede suo marito incatenato e scoppia a piangere mentre la mettono accanto a lui. E poi inizia ad urlare a Skyler perché lo stai facendo ho tenuto in braccio la tua bambina lasciaci stare vogliamo solo tornare sulla terra vogliamo solo vedere i nostri figli e i nostri nipoti lasciaci andare. Lui però non reagisce anzi ordina ad Alonso di tappare la bocca a entrambi con del nastro adesivo e lui fa proprio così. Intanto Skyler inizia a guidare lo yacht e lo porta il più lontano possibile dalla costa. In quel momento Alonso e John sono ancora giù in camera e Alonso ricorda che Tom nonostante le manette è riuscito a tenere Jackie per mano. continuava a rassicurarla a dirle che tutto sarebbe andato bene e che qualsiasi cosa fosse successa sarebbero stati insieme. All'improvviso però la barca si ferma e Skyler chiama i suoi complici per portare la coppia di sopra. Quindi li prendono li portano su e li obbligano a firmare i documenti di compravendita dello yacht. Skyler però non contento li obbliga anche a firmare un documento che gli avrebbe dato completo accesso ai loro conti in banca. A quel punto portano i due ostaggi nella parte posteriore della barca e mentre sono tutti lì Skyler dice una cosa agghiacciante ad alta voce e assicurandosi che la coppia lo sentisse dice ad Alonso di andare nella parte anteriore dello yacht e prendere l'ancora. I coniugi purtroppo capiscono da subito che quello che sta per accadere non è niente di buono e hanno quindi tutto il tempo per elaborarlo e pensare a tutte le cose peggiori al mondo. Jackie ancora una volta li prega di lasciarli vivere e continua a supplicarli. Intanto Tom riesce per un attimo a liberarsi dalla presa di John che lo teneva fermo e riesce a tirare un calcio fortissimo all'inguine di Skyler. Subito dopo però John di nuovo prende il sopravvento e posiziona Tom e Jackie schiena contro schiena. Poi arriva Alonso che trascina con fatica l'ancora e la porta davanti a loro. Skyler poi prende l'altra estremità della catena dell'ancora e la incastra alle manette dei due. Una volta sicuro che la catena fosse incastrata perfettamente inizia a sollevare l'ancora con un po' di fatica la fa passare sopra la ringhiera e infine la fa cadere nell'oceano. Appena quel pesante pezzo di metallo tocca l'acqua tutto quello che si sente è l'angosciante rumore della catena che sfrega contro la ringhiera incessantemente. L'unica cosa che potevano fare era pensare all'inesorabile scorrere di quella catena che li avrebbe trascinati via. Devono essere stati dei secondi raccapriccianti per loro. Poi all'improvviso la catena si tende e scaraventa fortissimo la coppia contro la ringhiera. Alonso ricorda che Jackie sbattè la testa talmente forte che sentì chiaramente un rumore bruttissimo come di qualcosa che si frattura in modo violento. Intanto comunque i tre uomini rimangono lì mentre Tom e Jackie stanno lottando disperatamente per non cadere in mare. Cercano con tutte le loro forze di tenersi alla ringhiera e ce la mettono veramente tutta ma è tutto inutile. E molto molto lentamente i due vengono trascinati prima sopra e poi oltre quella ringhiera. Il peso di quell'ancora era decisamente troppo e ogni loro sforzo alla fine non fu ripagato. Loro si meritavano quello yacht si meritavano il well deserved ma la stessa barca che per anni avevano desiderato si è infine trasformata in un terribile calvario e questo no non se lo meritavano. Nel momento dell'impatto con l'acqua sia Tom che Jackie erano vivi e coscienti e si sono resi conto benissimo di quella inesorabile discesa verso l'abisso. Sono sprofondati verso la morte a più di mille metri di profondità e la reazione di Skyler a questa orribile tortura e agghiacciante inizia a sorridere e urlare felice ride e sembra davvero al settimo cielo continuando a sorridere quindi torna al comando dello yacht e fa ritorno al molo e ragazzi non è mica finita qui anche se Jennifer Deleon non era in barca al momento dell'omicidio era comunque coinvolta fino al collo quando quel giorno è arrivata al parcheggio con sua figlia l'ha fatto apposta sapeva che avrebbe tranquillizzato gli hoax e voleva che salissero in quello yacht voleva intrappolarli lì perché sapeva benissimo che li avrebbero uccisi e sapeva anche come anzi a dire il vero tutta questa vicenda terribile è stata un'idea sua Jennifer voleva avere più soldi e quando ha visto l'annuncio dello yacht in vendita ha elaborato questo folle piano omicida pensate che addirittura prima durante e dopo l'omicidio Skyler continuava a chiamarla per dirle come stavano andando i piani e per chiederle consigli su cosa fare trovo tutto questo davvero scioccante e molto molto triste ma comunque una delle cose più inquietanti del caso è la videocamera di Jackie al suo interno ci sono i filmati di lei e suo marito che si divertono sono spensierati e vivono al meglio la loro vita li possiamo vedere proprio genuinamente felici ad un certo punto però le riprese si interrompono bruscamente e subito dopo parte un'altra ripresa si tratta di un filmato di Jennifer durante il ringraziamento cioè praticamente oltre ad averle rubato la vita le ha rubato anche la videocamera e ha iniziato a filmare i momenti felici con la sua famiglia in quella stessa videocamera come potete vedere a Skyler e a Jennifer non fregava proprio niente di Tom e Jackie non hanno provato rimorso non si sono pentiti per niente anzi li hanno anche derubati degli unici oggetti in cui erano impresse le loro memorie le persone che hanno incontrato i due assassini hanno detto di essersi sentiti a disagio e le hanno descritte come il male in persona Alonso per aver aiutato in questo atroce omicidio è stato condannato a vent'anni di reclusione gli avrebbero dato una pena molto maggiore ma dato che gli avevano promesso una riduzione se avesse raccontato tutto gli è stata concessa Jennifer invece viene condannata a due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale mentre Skyler e John sono stati condannati a morte i corpi dei coniugi tuttora non sono stati trovati e probabilmente non verranno trovati mai un dettaglio curioso ma che non c'entra niente con la storia è che ho scoperto che Skyler che si trova nel braccio della morte ha intrapreso il percorso di transizione e ora è legalmente una donna la cosa però ha creato polemiche perché tutte le cure ormonali sono finanziate da chi paga le tasse negli Stati Uniti e praticamente tutti credono che dopo quello che ha fatto non si meriti la soddisfazione di sentirsi a suo agio nel suo corpo quindi insomma è una cosa su cui si è parlato molto negli ultimi anni invece una cosa ancora più curiosa è che ho scoperto che Skyler non è l'unico attore dei Power Ranger ad aver commesso crimini anzi questo qui a quanto capito ha ucciso il suo coinquilino con una spada e altri attori hanno commesso crimini minori per questo alcuni credono che la serie sia maledetta o qualcosa del genere e fa paura pensarci dato che molti di noi probabilmente li guardavamo con ammirazione da piccoli e questa comunque era la storia di oggi ho preso particolarmente a cuore questa vicenda perché mi sono immedesimato in Tom e Jackie e davvero non mi vengono parole per descrivere le atrocità che hanno vissuto è semplicemente tristissimo io comunque spero di essere riuscito a farvi immedesimare anche a voi altrettanto e come al solito spero che in generale il video vi sia piaciuto vi ricordo che sono anche su Instagram se volete seguirmi e niente io come al solito vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao